subito pensavo fosse il fuoco dell'artificio invece adesso vedo sta nube in cui ci sono continue luci in giro per la nube che diventa sempre più grossa e minchia non si sente il rumore dei tuoni o dei fuochi non ho mai visto un fenomeno del genere non so neanche di cosa si tratti se qualcuno può spiegarmelo è agghiacciante sembra preso da un film horror mai vista una cosa del genere boh se qualcuno ha qualche idea di cosa sia